Le bellezze ammirate non sono mancate, le tipiche specialità botaniche e quindi i cespugli di capperi e le piante dei fichi d'India usate come barriere tagliafuoco, la cosiddetta grotta dello sparafuoco adibita come le altre poi a ovile, il ponte di Luigi Castellucci, un manifesto dell'ingegneria e dell'architettura e proprio per non farsi mancare nulla c'è stata anche una volpe che ha fatto capolino. Le oltre 50 persone che hanno raccolto l'invito qualche giorno fa della proloco di visitare la nostra più importante difesa naturale, il parco di lama balice, non si sono certamente annoiate anche perché guidate da gente esperta come per Paolo Modugno, Pasquale Fallacara e Francesco Mundo hanno potuto capire molte cose in più di un pezzo considerevole del nostro territorio e si è trattato per la sezione cittadina del primo evento post emergenza Covid-19. Partiamo dagli spazi aperti perché abbiamo bisogno un po' tutti dopo un lungo periodo così di isolamento tornare a vivere, respirare e far proprio quegli spazi che erano così connaturati con noi che forse non li abbiamo mai apprezzati. Oltre a respirare i buoni profumi, l'aria pura e gustarsi i colori del sole è stato ribadito allora nella passeggiata che la lama ha visto i primi insediamenti degli aborigeni a Bitonto proprio per la presenza del torrente Tiflis. Ma in realtà il nostro polmone verde è importante per altri motivi. Intanto la natura del luogo, la natura perché in questo contesto l'uomo è arrivato dopo quindi questo è il primo elemento importante da osservare secondo me e poi c'è l'aspetto legato alla utilità del terreno che può da un lato dare profitto all'uomo ma nello stesso tempo l'uomo con la sua conduzione corretta del luogo può concorrere a difendere il territorio.